Già queste partite stanno andando a puttane, porca troia, non è possibile, non funziona nulla, non funziona niente, non muore nessuno, non si sentono i nemici, ti shottano tutti, voglio credere nel miracolo finale, guarda, voglio credere nel miracolo finale, proprio. Ti prego, giochiamo confine, 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 no, non bannate confine, bancaffè, perché? Bannano confine, no, se riesce a caffè è impazzisco, ok, almeno non è caffè, almeno non è caffè, ma basta, ma mi bannano pure Clash su tutte le partite, basta, devo essere differente, Devo essere differente, Glaz, devo piccare Glaz tutti i round, basta, mi sono rotto il cazzo di prendere i Breacher, li prendano loro, i Breacher, tanto le partite ormai sono andate tutte quante affanculo, quindi prendo il mio operatore preferito e tiro dritto. Ciao, mio amico. Ciao, mio amico, dove sei? No, sono da indian. Donde? Sono da indian. Non ho bisogno di trovare una bomba. Non so cosa è che è che. Cosa è, mio amico? Non so cosa è che è... Sono da indian. Ah, indian, ok. Si, si, molto bene. Appstore, appstore. Il nome è Rashid e sei Aijan. Si, si. Ok. Ok. Come dovrei comportarmi in questa situazione, raga? Ho paura. Ok. 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 Nooo. Ma... Oh, sorry, guys. Vabbè. Ma non muore. Dai, sì, ma c'è il piede di cemento. Oggi sono solti i springs, io ve lo dico. Qui bisogna studiare una tattica. Da bene, agnello, agnello. Non muore! Minchia, oh. Ma tutti su di me sono? No, io non mi arrendo. Io non mi arrendo. Oggi dovevo staccare le prime due partite, guarda. Perché non è così. Tu capisci subito che non puoi giocare a questo gioco di merda. Quando va tutto storto, i compagni si teamkillano, si flammano in chat, i nemici non muoiono. Un timing di merda. Succede tutto contro di te, devi staccare. Dove cazzo è, ragazzo, qua? Ma dov'è? Affanculo, va. Madonna, ci stavo uccidendo tutti. Ci stavo uccidendo tutti questo, madonna, manomale. Prendiamo Wardens. Warden. Prendiamo Warden. Facciamo una mezza rotation. Quadrangolare qua, ok. Qual è il potere di Warden? Praticamente con i suoi occhialetti non puoi essere flashato. Non subisce l'effetto di flash. O fumogene. Mi sa che può vedere anche attraverso le fumogene Warden. Non ne sono sicuro, però mi sa di sì. Vabbè che l'ho preso male, raga, però... Non so che cosa prendere, vi giuro. Non so che prendere. Voglio andare sopra i miei compagni. Vabbè, andiamo sopra. Non so che di... Uno di corazza, Maverick. Ah, non so, mi sa che è da tre. Riconoscete gli insetti pallina, raga? Sono quelli che si... Come li tocchi poco poco, diventano tutti una sferetta lì. E si racchiudono nella loro pallina. Sono una specie tipo di armadilli in insetto. Eh, quelli sono simpatici. Quelli non volano, non saltano. Se ti vedono, si nascondono. Eh, sono animaletti simpatici quelli alla fin fine. Uno l'abbiamo ucciso, miracolo divino. Oh, finalmente possiamo andare pieno di sotto. Riprendiamo Thunderbird. Riprendiamo Thunderbird. Che cosa c'è da Thunderbird? Nitrocell Impact Grenade. Qua non penso ne userà mai nessuno. Eh, andiamo così. Ma ce l'hanno già abricciato tutto, tempo zero. Porca troia Quando l'ho tirato sto c4 Deve fiusero un me Godo Fuuu godo Io prendo montagne raga Io prendo montagne Sono stato spottato da uno scan Mi sta spottando uno scan Mi sta spottando uno scan Dio Oh Valkyrie Ecco siamo morti Madonna santa Ma sbaglio ce n'era una finestra Ottimo Riesco a capire dov'è Bravo Bravo dai ce la possiamo fare Dai difesa compatta Unita solida raga Difesa compatta Unita e solida Dai big bro Ce la possiamo fare Vediamo se ci sono droni poco simpatici qua No No rimaniamo interni Aspettazione Vigil porta a casa un one tap interessante Che guadagna subito Eh from bridge bridge sky bridge Blitz and another one Sky bridge Blitz sky bridge What the fuck Da dove è morto questo Si gode Vaffanculo Vaffanculo Godo cazzo Schifosi maledetti Maledizione Guarda Oh mio dio Sapevo che l'ultima partita Era la decisiva Grazie a tutti